In queste immagini possiamo osservare purtroppo gli effetti del gravissimo scontro tra una moto di grossa cilindrata e un'autovettura avvenuto stasera intorno alle ore 22 ad Alcamo nella via Madonna del Riposo in corrispondenza dell'intersezione con la via Vincenzo Pizzitola. A seguito del violento impatto l'uomo che era alla guida della motocicletta è rimasto ferito ed è stato trasportato mediante un'ambulanza del 118 all'ospedale San Vito e Santo Spirito. Al volante dell'auto era un giovane il quale non avrebbe riportato gravi ferite che secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente si stava immettendo nella via Madonna del Riposo provenendo dalla via Vincenzo Pizzitola. Sul posto si è intanto recata una volante della polizia del commissariato di Alcamo e si attendono aggiornamenti sia per quanto riguarda le condizioni di salute del motociclista coinvolto sia per chiarire le relative responsabilità dell'accaduto. Clienti di un ristorante situato nei pressi del luogo in cui è avvenuto l'incidente raccontano di aver sentito lo schianto tra i due veicoli e di essersi immediatamente recati in strada per vedere che cosa fosse accaduto. Le immagini che Alcamondo blog vi mostra rappresentano certamente uno scenario tutt'altro che piacevole ma che in ogni caso deve servire da monito per tutti ad assumere un atteggiamento di maggiore attenzione e prudenza sulle strade. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!